Aspettando il prossimo capitolo della serie Total War, ossia Rome 2 Total War, vi propongo un piccolo concorsino dove metto in paglio una bellissima copia di Rome 1 Total War. Ovviamente il 2 non ve lo posso mettere in paglio perché deve ancora uscire. Per partecipare a questo concorsino è molto semplice, basta che voi andiate nella mia pagina Facebook che trovate elencata qui sotto oppure ve la metto in sovrappressione così state certi che ci potete andare. Mettete un bel mi piace, aspettate questo sabato alle ore 15 dove metterò fuori tre bellissime domande di storia antica romana. I primi che mi risponderanno in maniera esatta, anzi il primo che mi risponderà in maniera esatta e vincerà una copia digitale di Rome Total War. Ovviamente per accettarla bisogna avere un account Steam, se no non si può fare niente. Beh ragazzi mi raccomando, state in campana! Grazie a tutti!